La dieta mediterranea è sempre più una tendenza globale. Dieci anni fa la sua iscrizione a Patrimonio Immateriale dell'Umanità Unesco, oggi su uno dei siti più specializzati nella pubblicazione di consigli e classifiche utili ai cittadini, viene confermata come migliore al mondo. Ma non è tutto, il suo indice di gradimento è in crescita in paesi legati ad altre tradizioni alimentari, anche per la nuova consapevolezza di come le scelte che facciamo a tavola impattino non solo sulla nostra salute ma anche su quella del pianeta. Tra gli indicatori del grande successo della dieta mediterranea troviamo i consumi della pasta. In dieci anni il consumo mondiale di spaghetti e altri tipi di pasta è passato da quasi 9 a circa 15 milioni di tonnellate annue. Questo perché la pasta è la traduzione più immediata del concetto di mangiare mediterraneo. In un suo recente studio il WWF ha calcolato che 100 grammi di pasta al pomodoro hanno un'impronta di carbonio di appena 0,492 kg, mentre l'impronta idrica è pari ad appena 231,4 litri, numeri davvero bassi se li confrontiamo con altri alimenti. Tutto il contrario avviene invece nel nostro paese che mostra segnali di un progressivo allontanamento della popolazione dalla dieta mediterranea. Solo il 41% della popolazione del nord Italia mangia seguendo questo modello, appena il 16,8% nel centro Italia e il 42,1% nel sud del paese. In Italia si mangia sempre più fast food, c'è meno convivialità a tavola e si fa meno attività fisica. In un recente studio su 30 paesi l'Organizzazione Mondiale della Sanità evidenzia il problema sovrappeso e obesità tra i bambini italiani.